L'azienda ospedaliere universitaria di Pisa capofila dello studio per usare il plasma di pazienti guariti da Covid-19 nella cura dei malati critici con polmonite in ventilazione assistita. Lo studio sperimentale denominato Tsunami Stadi ha avuto il via libera dal Centro Nazionale Sangue. L'idea alla base dello studio, già sperimentato in Cina in fase di avvio a Pavia, è di usare il plasma iperimmune di pazienti che sono guariti dal Covid-19 per curare i malati gravi di coronavirus. Lo studio è stato illustrato all'ospedale di Cisanello nel corso di un incontro tra il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il Professor Francesco Menichetti, direttore di malattie infettive e coordinatore dello studio. Mi pare importantissimo a conferma di questo centro di eccellenza per tutta la Toscana e per tutta l'Italia il fatto che si guidi questa sperimentazione con il plasma. La Toscana potrà sulla base di un protocollo tutta la Toscana collegarsi a questa sperimentazione e quindi aumenta una possibilità di cura per i cittadini che sono stati contagiati. Esiste già in letteratura qualche evidenza che l'utilizzo terapeutico di questo plasma iperimmune possa influenzare positivamente la prognosi di pazienti anche gravi, di pazienti al tubo o candidati alla ventilazione meccanica. Pisa sarà capofila non solo a livello regionale, ma di un progetto che raduna anche un consorzio di altre regioni, Lazio, Campania, Marche, Molise e le Forze Armate. L'obiettivo dello studio è quello di valutare l'efficacia terapeutica del plasma infuso su pazienti affetti da grave insufficienza respiratoria per polmonite da Covid-19, ma anche quello di valutarne il decorso clinico. Nel caso di altre malattie come l'Ebola e il MERS-CoV, l'uso del plasma di persone convalescenti sopravvissute all'infezione si è dimostrato efficace in fase terapeutica. Grazie. 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 Grazie.